È qualcosa che si può usare anche come arma? No. Sei sicuro? Una volta ho usato una cipolla come arma. Max, devo parlarti. Presto, passami una cipolla. Sai, l'amica di Link, ho scoperto che è veramente strana. Vuole farmi del male. Che cosa ci trovi di strano? Parlo sul serio, minaccia la mia storia con Link. Ha fatto un cuore con le mani e poi così. Ha usato la minica? Perché lo stai dicendo a me? Parla con Link. Questo è il problema, non posso. Penserebbe che sono gelosa. E non è adatto a una senza gelosia. Muoviti, dammi subito una cipolla. Se Link vedesse che lei mi tratta male, allora cambierebbe idea. Tu sei un esperto in materia, potresti farla cadere in trappola. Guarda, Phoebe, lo farei, ma... Stavo scherzando, odio aiutarti. Meglio fare uno stupido gioco con le carte che aiutare tua sorella. Ti ringrazio. Finalmente. Ora riprendiamo a giocare. Lui è un cavallo, tu un ananas. No, cari! Ti ha rovinato il gioco! Nora? Nora? Guarda, fiocchi gratis! Dove? Sotto il mio letto c'è un mostro. Prima cosa, non scherzare mai sui fiocchi gratis. Secondo, non essere ridicolo. Ma è la verità. Ho sentito uno strano rumore. Anch'io e non sta smettendo di parlarmi. Ti prego, Nora. Ho paura. Va bene. Meglio controllare insieme. Grazie. Uno, due, tre. Hai visto? Non c'è niente. Mostro! Mostro salsa piccante!